Qualche mese fa sono arrivato a tanto così dall'ottenere un lavoro come freelance per un'azienda americana molto 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 ben pagato. In questo video voglio raccontarvi il lungo processo di selezione che c'è stato e secondo me qual è stato il motivo per il quale arrivato all'ultimo step sono stato scartato. Io sono Giuppi, bentornati. Dunque intanto come mi sono candidato? In realtà non mi sono candidato, io mi hanno contattato loro tramite LinkedIn perché all'epoca stavo lavorando full time come freelance per una startup e non stavo neanche cercando. Come hanno fatto a contattarmi? Banalmente per due motivi. Il primo è che il mio profilo è scritto in inglese quindi è comprensibile. Ho tradotto tutto apposta per poter essere raggiunto anche da realtà internazionali. Il secondo motivo è che il mio profilo non è niente di incredibile però ho messo di esalto solamente le cose su cui una competenza molto forte. Non ho messo tutto quello che conosco dal principio ad oggi ma si leggono subito le tecnologie più specifiche che poi erano guarda caso quelle che interessavano loro. Tra l'altro loro cercavano un full stack developer con Node.js lato back-end, React lato front-end e GraphQL per l'API, il tutto in TypeScript. Quindi per quanto il mio fosse un profilo di un front-end developer avendo comunque un minimo di esperienza in Node, conoscendo GraphQL e utilizzando TypeScript, avevo queste parole chiave e quindi mi hanno contattato. Quindi mi raccomando in inglese il profilo se volete essere più facilmente contattati dall'estero. Secondo step perché non è che mi hanno contattato e mi hanno detto ci piaci, vieni a lavorare con noi ovviamente, ma entra all'interno del processo di selezione. Come si entra? Ci devi mandare il curriculum. Dunque avrei potuto aggiungere un curriculum come questo, il classico, è Europass, qualcosa, scritto in inglese, comunque su due pagine perché più di due pagine non vado mai a prescindere. Il discorso è che per il tipo di azienda, per il modo in cui c'è la stata comunicazione, mi sembrava il caso di fare qualcosa di un po' più snello. Così sono passato a un curriculum su una pagina sola in cui vi sono esattamente solo le informazioni che ritengo utili per questo tipo di candidatura ed è molto più immediato da leggere. Qua ci sono le skill, qua ci sono le esperienze che c'entrano di più e ovviamente quella che in quel momento era corrente, progetti vari, insomma, ho deciso di mandare questo curriculum perché secondo me poteva essere più di impatto, ma sono giocata così ed è andata bene. Una volta visto questo curriculum in cui c'era qualche informazione in più, che tra l'altro era ridondante con Linkedin ovviamente, mi hanno detto ok passiamo allo step successivo, quindi fino adesso ci siamo. Ovviamente sia per quanto riguarda il curriculum che per quanto riguarda il profilo Linkedin ci sarebbe tantissimo da dire. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa un video su questi argomenti che potrebbe essere utile sia che siate junior, sia che non siate junior, ma vogliate aprirvi ad altri orizzonti sia a freelance che all'estero, ovviamente poi iscrivetevi per non perdere i prossimi video, mi raccomando. Andiamo avanti. Dopodiché c'è stato un brevissimo colloquio telefonico che aveva l'unico scopo di capire che io parlassi in inglese. Niente di eccezionale, quindi questo poi ne parleremo perché fare colloquio in inglese so che spaventa molti perché anche per me è sempre stata un po' una preoccupazione per quanto poi parlo in inglese, perché viaggio, ma non è che sono madrelingua. In realtà molto spesso si richiede semplicemente che voi siate in grado di capire quello che vi viene detto e che siate in grado di presentarvi, parlare di quello che vi viene chiesto di parlare. Quindi banalmente mi è stato chiesto parlaci di te, della tua esperienza lavorativa e essere in grado di presentarsi e presentare un po' la propria esperienza. Quindi questo ve lo potete presentare. Il livello in inglese richiesto, pronuncia eccetera non è altissimo. Quindi questo è stato più una formalità. Lo step successivo mi aspettavo qualcosa di tecnico, ma non quello che è successo. Mi hanno mandato un form da compilare. In realtà tutto il form girava intorno al mio profilo GitHub. Che cosa vuol dire questo? Il mio profilo GitHub l'avevo già visto perché l'avevo già mandato, ma nel form mi chiedevano informazioni specifiche, non sui miei repository, era comunque un form diciamo standard, ma su quali fossero i repository di cui ero più orgoglioso, mi ricordo una cosa del genere. Non ho purtroppo più accesso al form per farvi vedere a grande linea quali sono le domande. A memoria quella che mi ha colpito di più era stata questa. Qual è il, non il repository, addirittura il pezzo di codice di cui sei più orgoglioso? E gli ho fatto molta fatica a rispondere. Poi c'era una serie di domande che vertevano su quali fossero i repository che fossero in qualche modo più inerenti a quello che poi era il loro stack. Non è stato semplice raccontare tutto quello che avevo fatto prima, perché io poi ho lavorato tanto, tanto per altre aziende, quindi nel mio GitHub mancava del materiale in questo senso. Ma comunque il lavoro fatto negli anni così per progetti miei più piccoli o per un progetto di start-up su cui avevo lavorato anni fa, che poi vi racconterò giuro su questo canale, avevo effettivamente qualcosa da raccontare, sia per quanto riguarda la parte node, che era per me la più critica, ma avendo fatto qualcosa appunto per un progetto che avevo fatto con altri ragazzi in node, ho potuto raccontare quello. E poi c'erano dei siti che avevo fatto in React, in X, quindi su quello avevamo qualcosina in più. Morale della favola, cercate, non dico di avere il super GitHub, ripeto, non ce l'avevo neanche io in quel momento perché lavoravo per altre persone, ma se negli anni studiando o per progetti vostri giocate con delle cose, magari fate anche attenzione a qual è il vostro stack, perché se non avete niente da mostrare su quello che è lo stack su cui poi volete rivendervi, può diventare molto difficile rispondere a domande come queste. Per me è stato difficile rispondere a questo form, ho cercato di, ovviamente con assoluta onestà, non mi sono inventato niente, di arrivare a proporgli quello che poteva essere il mio profilo, guardando le mie repository GitHub. E alla fine della fiera gli è piaciuta questa risposta, quindi siamo andati allo step successivo. Qua andiamo sulla roba tosta, questo è stato il penultimo step, ed è stato non il tosto, perché il tosto arriva dopo, ma è stato tostissimo. In cosa consisteva? In un lavoro, in un progetto da concludere in una settimana, in cui dovevo tirare giù un progetto, sia back-end che front-end, quindi un progetto full stack, che ovviamente utilizzava le tecnologie che servivano loro. Quindi mi era stato richiesto di creare un back-end con Node.js e un front-end con React che andasse a simulare, ovviamente poi con GraphQL nel mezzo per far parlare il tutto, che andasse a simulare quello che era poi il loro applicativo. Ovviamente non posso farvi vedere nel codice, nelle loro tracce, eccetera, ma quello che posso farvi vedere è il fatto che, siccome soprattutto sul back-end avevo dei punti deboli, alcune cose non le avevo fatte funzionate al 100%, lo sapevo, avevo dei limiti, per me una settimana era stata durissima, soprattutto la parte back-end. Quello che ho fatto, sempre per cercare di giocarmi tutte le carte, è stato documentare benissimo la parte di codice, sia il front-end, su cui ero molto più tranquillo, era un drag-and-drop con D&D, mi sembra, comunque era stato un pochettino più facile, ma comunque ampio, ma soprattutto la parte di back-end, avevo scritto tutto quello che poteva essere, ma soprattutto anche tutto quello che poteva essere migliorato, fatto in maniera alternativa, perché non ero sicuro di averlo fatto nel modo giusto, e ho messo tutti i dettagli possibili. Questo perché appunto sapevo di non aver fatto un lavoro perfetto, soprattutto sul back-end, e ne ero sicuro perché mi ricordo anche di un test che falliva, che in qualche modo alla fine, mi ricordo se l'ho tolto, o l'ho fixato, in un modo brutto, comunque c'era brutta roba dentro, ma io l'ho documentata questa cosa, e ho documentato anche quali erano i miei problemi, e crediateci o no, questo è stato secondo me quello che ha fatto promuovere questo progetto all'ultimo step di questo processo, perché avendolo documentato molto bene, e avendoci messo comunque un'analisi molto onesta sempre, e questo è un po' quello che cerco sempre di giocarmi, sia che si tratti del colloquio, sia che si tratti poi delle prove tecniche, alla fine hanno deciso di premiare questo progetto, anzi mi hanno proprio risposto come hai documentato il tuo progetto, ci hai reso molto contenti, adesso tra l'altro un po' male, però il discorso era proprio questo, ci è piaciuto quindi come hai lavorato, e quindi arriviamo all'ultimo step, ci piace, vai, quindi già volavo fortissimo, ok, quindi poi andrò a firmare magari in sede da loro, non mi ricordo se erano in California, dove erano, stavo un po' lì, e poi fu un remoto in giro per il mondo, con i soldoni americani, o comunque stavo già volando altissimo, per quanto come vedremo dopo, poi forse non era esattamente la cosa giusta per me, ma siamo arrivati all'ultimissimo step, dunque all'ultimo step non posso fare altro che raccontarvelo, perché in cosa consisteva? Consisteva ovviamente in per-programming, quindi io a programmare, condividendo lo schermo con altri tre membri del team, mi sembra sì, in giro per il mondo, uno era in Vietnam, uno in India, e uno non mi ricordo, che mi guardavano e mi chiedevano di fare delle cose, questo colloquio è durato tre ore, e praticamente molto brevemente, siccome avevo fatto appunto questo progetto di back-end e front-end con GraphQL, che faceva delle cose, in quella sessione dovevo implementare altre cose, quindi tutte delle crude, lato back-end, poi dovevo lato front-end, non mi ricordo comunque ovviamente interagire col back-end, aggiungere cose, sempre sto drag and drop, insomma devo completare l'applicazione in queste tre ore, e al termine di questa prova avrei, non immediatamente ovviamente, avrei avuto l'esito, nel senso che se questa prova fosse andata bene, sarei entrato non nel team, era un po' l'ultima prova, avrei fatto solo più il colloquio con, non lo so, il CEO o qualcun altro. Com'è andata questa prova? Allora, prima di dirvi quali sono stati per me, secondo me i motivi, per cui la prova poi alla fine è andata male, nel senso che non sono stato preso, tecnicamente non è andata malissimo, nel senso che quello che mi era stato richiesto di fare all'inizio come traccia, nelle tre ore giuste, giuste giuste, forse tre ore e mezza, non mi ricordo, in effetti l'ho fatto, quindi siamo riusciti a fare tutta la parte back-end, la parte front-end, ovviamente io avevo delle difficoltà lato back-end, quindi anche quelle sono emerse un po' più velocemente, il front-end ero più tranquillo, erano cose abbastanza semplici, il problema è che piano piano tutto è andato un pochettino male, e qui entriamo nel merito di cosa è successo, perché non mi hanno preso secondo me, perché poi ovviamente non ho una risposta ufficiale, il problema è che in quel momento io ero in Grecia, bello ero in Grecia, ero in Grecia fu un'isola, in cui internet prendeva leggermente male, un po' i giorni ogni tanto si sconnetteva, riconnetteva, quindi saltava, cosa succedeva quindi? Che loro mi parlavano, perché ogni tanto mi chiedevano anche perché l'hai fatto così, come si potrebbe fare, mi spieghi questo, giustamente era una sessione molto intensiva, abbastanza da panico in realtà a ripensarci, a me saltava la linea, e quindi io non sentivo delle frasi, quindi ogni tanto gli chiedevo di ripetere, ma la cosa era diventata talmente, cedeva talmente spesso, che a un certo punto facevo finta di aver capito, quindi c'erano attimi di silenzio, ma attimi anche abbastanza lunghi, in cui io improvvisavo, ed era palese che magari stavo dicendo la cosa sbagliata. Ovviamente come potrete immaginare, sono iniziato ad andare nel panico, nel panico relativo, ma abbastanza per iniziare a non sapere cosa stavo facendo, e il fatto è che questo tipo di problemi ce l'ho avuti all'inizio sulla parte di back-end, in cui già ero insicuro, quindi ero un po' più insicuro nel programmare, non inizio più a capire niente di quello che mi dicono, passiamo al front-end, ma io ero ormai abbastanza in palla, poi appena mi parlavano io non capivo, quindi ero sempre lì che cercavo di capire dove mi trovavo, quindi in realtà anche sul front-end, sì ho fatto le cose, ma delle robe anche banali, ero lì che dicevo, e sta roba come la faccio? Ma anche sul CSS, non ricordo un flex, non mi ricordo i dettagli, ma il fatto sta che sono andato un po' in palla. Ora, magari non del tutto in palla da appunto bloccarmi o far cosa, perché ripeto, il progetto l'ho portato anche alla fine, ma il problema è che se concorri a una posizione così ben pagata, di prestigio, nel senso che appunto l'attaristato nel team avrei avuto delle responsabilità, in un lavoro comunque poi molto, molto comodo, fu remoto, su una azienda di prodotto, quindi una bellissima posizione, lì il livello deve essere alto, e quindi nel momento in cui tu mostri delle incertezze, ovviamente è probabile che qualcun altro sia lì pronto invece a presentarsi a pieno, e quindi è quello che è successo, quindi secondo me è proprio stato il non essere abbastanza sicuro nel mostrarmi perché, non è solo una questione di ok, ho fatto tutto che mi avete chiesto, quindi tutto a posto, ma stiamo lavorando insieme e io in qualche modo mi sono impallato, alcune cose non... e gli ho risposto anche a caso a delle cose evidentemente, perché io pensavo di completare la frase in maniera corretta, ma magari non lo era, quindi cosa ho imparato da questo colloquio finale, quindi è intanto che in alcune situazioni rischio di impallarmi, quindi questo è stato comunque un allenamento che mi ha fatto capire alcuni punti deboli, anche quando tecnicamente magari le cose le so, soprattutto di essere in una situazione di completo comfort per fare un colloquio del genere, non posso avere una linea che va e viene, ho problemi di audio, insomma deve essere tutto al massimo, non createvi voi degli ostacoli come ho fatto io. Bene, in conclusione di questo devo dirvi che però in realtà in quel momento non stavo cercando un lavoro, lavoravo appunto con un'altra azienda ed ero contento, ovviamente è stata un'attituzione molto ghiotta sia per fare le esperienze di un colloquio del genere, sia perché economicamente era una roba assurda che mi sarebbe piaciuto valutare e poi si accettare o meno, ma così non è stato. In realtà a seguito di quello poi ho iniziato il mio percorso legato alla formazione, mi ha dato la possibilità di insegnare, ho iniziato a insegnare e oggi quello che faccio principalmente è insegnare, ho i miei corsi, ho il mio sito e quindi in realtà sono contento di dove sono arrivato al di là di questo colloquio. Quindi in realtà io ve lo racconto ma senza nessun infino amaro in bocca, in senso è stato divertente, ho un bel ricordo però in Grecia, mi ricordo che c'era della gente che mi aiutava a fare le cose, non tecnica ma per scriverle bene in inglese, è stato un bel ricordo, è stato un bel ricordo anche questo momento qua, ma non ho nessun rammarico dell'ansia, se fosse andato bene chissà, magari sarebbe stato sicuramente una bella esperienza interessante, però in realtà per tutto quello che è successo poi dopo, il fatto che appunto ho iniziato tutto un percorso, ho iniziato a fare un sacco di video qua su YouTube, quindi va benissimo così, non sono arrivato ai 120k quanto veniva in totale, perché poi c'era anche premio, quote, insomma, si arrivava un sacco di soldi, però sono contentissimo così, è una bella esperienza e questo in realtà è una cosa che mi porto sempre, fate colloqui anche se magari non vi interessano perché sono un ottimo modo per fare esperienze di qualche tipo, imparare, imparare a confrontarvi, magari in inglese, fare dei colloqui in inglese può essere una gran roba se non l'avete mai fatti, poi vadano come vadano, magari non è neanche la scelta migliore per la vostra vita. Io spero questo mio racconto vi sia stato utile al di là del racconto di per sé che per me è stato che è un bel ricordo, fatemi sapere nei commenti se volete informazioni su qualche step in particolare o se vi è capitato qualcosa del genere e com'è andato, spero magari meglio che a me. grazie come sempre per aver visto il video noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.